Faccio un po' d'ambientamento, ok? Allora, quando cominciamo a fare delle manovre, tu devi trattenere il respiro. Cioè, prendi il respiro e fai... E tieni un po' sotto la faccia, va bene? Ok. Ok, non mi sentire il diaframma qua. Devi stringere un po' e prova a stringere i denti, va bene? Ok. Se ti danno fastidio, io farò una cosa progressiva. Ok. Se ti danno fastidio, mi decidiamo fermarmi perché mi dà fastidio. Ok. Sto a cercare un'altra termica perché se faccio le manovre qui, fanno una livella di termica. Allora, facciamo, allora, ginocchia chiuse e facciamo, adesso facciamo, questi si chiamano wing over. Ok. Tipo l'altalena, ok? Ok. Carichiamo prima di qua. 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 Cazzo! Ok. Oddio, mi girò un po' la capaccia, ma ci sta. No, è normale. Vientemente. Ok. Direi? Sì. Bene. Adesso dobbiamo rifar quota perché andiamo verso l'alto. Ora è che risaliamo piano piano. Montiamo un po'. Com'erano le manovre, Giuliero? Fighe! Ah, è vero, non ci penso. Stai tipo su una trottola. Dopo vediamo la tua faccia. No, non lo so se la voglio vedere la mia faccia. Oddio, non ci penso che ci abbiamo fatto affare davanti. Sì, 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 sì. Non si soffrono niente. No, non lo so, non lo so. Qui se soffri di mal de mare così non le fai ste cose? Non lo so perchè non so su di niente, diciamo che questo è molto simile a navigare, tu sei immersa in un fluido, la puoi vedere in due modi, o stai sotto l'acqua o sopra l'acqua, tutti questi movimenti che ti danno fastidio allo stomaco sono i movimenti di salgo, stop o scendo. Ma io più che allo stomaco, prima quando abbiamo fatto la testa ti senti che ti gira, capito? Considera che lì tu raggiungi il 2-3 volte il peso del tuo corpo, arriviamo fino a 4G, dai 4 ai 5G, vuol dire che tu doppi, triplici, cioè triplichi il tuo peso, per quello che ti viene, è per quello che ti ho detto, tieni la pancia stretta, eviti di svenire. Ah ok, se vedi nero mi dici guarda ho questo nero, no per ora prima giravo ma non ho questo nero, 26 fra 10 giorni, sono ancora piccolina, no vabbè mi sto avvicinando ai 30, mi sto avvicinando ai 30. Bene, questa è una bella termini, chiamocela, rigiriamo, saliamo un altro punto. Ok, tu dimmi quando poi devo stringi la pancia. Sì, sì, adesso mentre saliamo rispingi. Ok, ciao.